Volata finale, volata finale in praticamente tutti i campionati del mondo, siamo agli sgoccioli prima dei playoff, Super Rugby, UFC, Premiership e Top 14. E allora, Crutch, Bind, Set, benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby, il riassuntone, il riassuntone. Visto che vi è piaciuto questo format la settimana scorsa, in tanti me lo avete scritto nei commenti, fatemi sempre sapere i vostri feedback perché sono molto molto utili per costruire i contenuti di questo canale. Torniamo anche questa settimana a raccontare tutto, tutto, dalla A alla Z, quello che è successo nel rugby mondiale. E allora partiamo, ma prima di partire, se non siete ancora iscritti al canale, che è un po' che stiamo andando a rilento con le iscrizioni, iscrivetevi dai, mi raccomando, che dobbiamo arrivare ai 5.000, spingiamo, spingiamo assieme questa molle. Allora, partiamo dal Super Rugby, nel Super Rugby iniziamo a parlare di Crusader Rebels. E attenzione, attenzione, Crusaders, la settimana scorsa avevamo parlato di una debacle, invece d'improvviso tornano i Crusaders. E occhio che sappiamo benissimo che quando il mostro dormiente si sveglia, beh, può essere un problema per tutti. Ultimi in classifica fanno una partita dominante dalla prima mischia. Appunto, a proposito di mischia, sei punizioni da mischia sono un'enormità, soprattutto contro una squadra che ha, per esempio, per dirne uno, Tanniela Tupou, cioè quando la mischia funziona poi tutto il resto viene da sé. Segna perfino Owen Franks, prima meta in Super Rugby dal 2010. Owen Franks, quarta in carriera per il Centurione All Blacks. Insomma, uno a cui hanno detto che la meta era un optional, però ha avuto una signora, signorissima carriera. 39 a 0 e il campionato dei Crusaders potrebbe iniziare proprio adesso. Waratas Chiefs, i Chiefs che provano anche a rendere la partita più interessante, prendendosi due gialli nei primi minuti che agevolano le prime due segnature da molle dei Waratas, ma poi quando la partita torna in parità numerica sale in cattedra D-Mac. Damian McKenzie, protagonista anche questo fine settimana, detta i tempi, detta le giocate per la vittoria finale. 38 a 22. Derby isolano attesissimo e scontro play-off tra Drua e Pacifica, Fijan Drua e Moana Pacifica, che erano tra l'altro a pari punti a 13. Nelle quote partivano comunque favoriti i Fijani e alla fine i Fijani la portano a casa. Dopo il confronto delle rispettive danze di guerra, no? Sarebbe sbagliato dire H, perché poi i nomi sono diversi, la battaglia poi si trasferisce in campo, dove a dire il vero i Drua la risolvono nel primo tempo. 24 a 17 finale è il frutto solo del late comeback dei Pacifica, che si portano però a casa il punto di bonus difensivo. Ma la sorpresa di giornata in Super Rugby arriva a Canberra, in Australia, coi Brambis, Brambis che sembravano una bestia completamente differente rispetto a quella della settimana scorsa, che sono stati sommersi letteralmente dai Blues. Bene, contro la capolista iniziano subito con un fortissimo Leolesio, a O, l'Olessio, come viene chiamato in Australia, che prima segna in bandierina e poi trasforma dalla linea del line. E poi ti rendi conto che tutto quello che non funzionava la settimana scorsa funziona invece questa settimana. Rob Valentini è super hot, Tua trova una gran meta, l'Olessio continua a centrare i pali e alla fine non basta nemmeno la doppietta di Numia e la meta di Jordi Barrett per gli Hurricanes. 27 a 19, il punteggio che non ti aspetti per i Brambis di coach Larkham. Western Force, Western Force che avevano fatto l'impresa la settimana scorsa coi Crusaders, bene, sono chiamati a ripetersi con gli Highlanders. Scontro esotico a quelle latitudini, quello tra argentini, perché da una parte c'è Bogalo e dall'altra parte c'è Medrano e partita con un punteggio atipico per il Super Rugby. finisce 7 a 6 per i neozelandesi con una media del mediano faccatava in un match con difese attente e disciplinate. Poi la giornata si chiudeva con un bel Reds Blues, partita che si decide nell'ultima mezz'ora, Lainag cerca il palo del possibile vantaggio, Tim Ryan segna la prima delle tre mete al suo esordio da titolare in Super Rugby, attenzione a questo nome, segnatevelo, Tim Ryan, la terza è fantastica, si fuma letteralmente Telea, segnatevi il nome. E poi Lainag, Lainag esce zoppicante dopo la trasformazione, ma nell'ultima mezz'ora viene fuori la squadra di Oakland che si porta sul 34 pari. Tempo rosso, chi segna vince o si andrà al Golden Point, ma i Blues non ci stanno e allora Caleb Clark, entrato dalla panca, ricorda un po' al mondo intero perché era considerato addirittura il nuovo giornalomo, il nuovo The Big Thing del rugby neozelandese prima poi di passare vari anni travagliati. Accelerazione imprendibile, 2 contro 1, giocato da Dio e meta di Creighton, 34 a 41. E allora vediamo la classifica, con i Blues che vanno a tallonare gli Hurricanes che perdono la prima stagionale, i Crusaders che fanno un balzo in su e mettono il primo mattone della grande remontata e la corsa ai playoff resta apertissima con due Highlanders, settima ottava, ma occhio anche fino all'ultimo posto con i Western Force. Tra l'ottava e appunto i Western Force ci sono solo 5 punti e ancora 5 giornate da giocare. URC, United Rugby Championship, la giornata dello URC inizia proprio con la partita di Treviso, ne abbiamo già parlato ampiamente nel commento post partita a caldo e a distanza di qualche giorno ragazzi la sensazione di una partita fastidiosa resta. Resta anche la consapevolezza, la consapevolezza di un mezzo passo falso per come è andata la partita, delusione forse in parte mitigata dai due punti di bonus acciuffati alla fine con la meta di furbizia di Thomas Albornoz e a condire un po' quanto detto segnaliamo un McCloskey e un Cunei che entrano nel 15 della settimana di Planet Rugby da parte Alster e da parte Benetton Lorenzo Cannone con 24 placaggi e 12 carry per una prestazione forse sottolineata troppo poco tra i migliori di Treviso il punteggio come sapete 38-34 in contemporanea a Treviso si giocava anche all'Anelli Hanehilo come cavolo si pronuncia dove gli Sharks faticano più del previsto ma alla fine la coppia sia Masuku e Werner Koch decide che la partita va vinta Masuku calcia cross kick e Koch chiude schiacciandone tre 27-32 e adesso i sudafricani come Treviso avranno la testa alle semifinali di Challenge prima di affrontarsi in UFC le zebre le zebre tengono una mezz'oretta e poi si prendono un'altra ripassata ragazzi è uscito un articolo in settimana un po' impietoso che ci ricorda che la duecentesima sconfitta dalla creazione delle zebre articolo appunto un po' impietoso ma i numeri alla fine sono numeri partita che aveva qualche così spunto di interesse per esempio il confronto tra Franco Smith Senior e Franco Smith Junior ovviamente Franco Smith Senior allenatore di Glasgow e Franco Smith Junior in campo come centro nelle zebre bene quello è uno dei pochi motivi di interesse di una partita che finisce appunto dopo mezz'ora e il punteggio finale sarà 49 altro motivo di interesse barra nostalgia vedere Dominguez calciare a pali diciamo che per l'appassionato di rugby italiano vedere un Dominguez calciare al pali e tanta roba però oltre a queste note di colore la partita delle zebre offre veramente ben poco così come non offre tantissimo la passeggiata dei Bulls con gli Ospreys Arendts ne fa due Moody ne fa due Willy Leroux mette la cherry on the cake ciliegina sulla torta 61-24 festa per i Bulls con i propri tifosi in un bel pomeriggio sudafricano di sole meno scontata sembrava invece Cardiff Edimburgo quanto meno sulla carta e Cardiff resta in partita fino agli ultimi dieci minuti poi però una meta di Venter in pick and go chiude la contesa 7-24 e 4 punti in classifica importantissimi per Edimburgo che adesso ha meno uno da Treviso attenzione con cui si giocherà l'ultima Monigo il primo giugno e potrebbe veramente essere una specie di ottavo di finale non riescono invece a restare attaccati al treno playoff i Lions che con la seconda sconfitta nelle ultime tre partite si allontanano dall'ottava posizione Simon Zibo si rivede con Monster che a un certo momento si trasforma in Messi fa il calciatore fa una meta di punizione si prende poi una meta di punizione per essere placato senza palla dopo tre controlli a seguire col piede con grande sensibilità e Regismi Sniman ha bisogno di un po' meno di sensibilità ma di tanta forza brutta si fa sentire in moll e trascina Monster alla meta di bonus a fine gara e alla fine sono 20 i punti di distacco per un chiaro 13 a 33 avevamo definito imbarazzante la prestazione della settimana scorsa di Leinster beh questa settimana il gruppo vacanze Sudafrica di Coach Cullen con Ninaber che si è proposto guida turistica dell'Allegre Compagnia riesce a fare anche peggio gli Stormers immaginavano che non fosse una sfida impossibile ma nemmeno così facile la prima meta è significativa Leinster trasmette un pallone con una leggerezza incredibile e gli Stormers lo raccolgono da terra vanno in meta con Loader e poi il clima da scampagnata per gli irlandesi evidenziato anche dalla meta di Gallant che fa una finta bellissima da far girare la testa e chiude i giochi Leinster torna in Irlanda e ovviamente quella che vedremo sabato nella semifinale di Champions contro i Saints sarà tutta un'altra squadra scommetteteci Chiude la giornata Dragons-Connect e la partita non è così scontata come si possa pensare i Dragons restano in gara fino alla fine ma poi i boom di Haki e compagnia la risolvono con una meta di molle e una rubata sul punto d'incontro con i Dragons ormai senza forze job done per Connect che passa davanti a Treviso in classifica in classifica la novità è il riavvicinarsi nelle prime quattro posizioni con Glasgow che passa in testa Leinster ha quattro punti e Monster e Bulls subito dietro con le sole quattro squadre ad aver già scollinato quota 50 dietro il gruppone gruppone che continua a darsi spallate con Treviso che passa da sesta a ottava e i balzi in avanti di Stormers Connacht e Alster in fondo punto di bonus dei Dragons che lascia le zebre ultime a 15 Premiership il big match in Premiership era Bath Saris Bath orfani di Finn Russell ai box per un'infortunia linguine che è stato definito serio affrontavano l'armata Saracens col partente ormai Farrell ancora al timone il Riccio partiva da Impact Player non nei 23 invece fa i va la partita sembra indirizzata subito verso Londra con Farrell che dà un assist con le mani a Parton che non smette di segnare e invece ne dà un altro con i piedi a Segun i Saracens sembrano in controllo ma viene fuori Bath e pareggia fino al finale parità e attenzione Tio Dan parte in velocità che nemmeno un centro e poi dallo sviluppo dell'azione Farrell mette i tre della vittoria ci prova fino alla fine Bath ma i Sarais tengono vincono 12 a 15 e poi possono festeggiare anche vista la settimana di pausa ah ecco forse il via libera potete festeggiare Billy Vunipola lo ha preso un po' troppo alla lettera visto che è finito in manette a Mallorca per un po' di casino dentro un locale son ragazzi son ragazzi altra partita importante a Wellford Road con i Tigers a giocarsi l'ultima chance di playoff contro i Bears e Leicester sembrava quasi avercela fatta a un certo momento al 71 in vantaggio di 12 si prendono poi un rosso per doppio giallo con l'eterno Mike Brown che forse potrebbe aver finito la carriera proprio con questo episodio che lascia la squadra in 14 e i Bears non se lo fanno ripetere due volte prima segnano di potenza con Life doppietta dalla panchina e poi chiude Magnus Bradbury di nuovo sfondando l'ultima resistenza Tigers e schiaccia con una decisione che fa mormorare il pubblico 19 a 21 orsi che graffiano la tigre che torna con la coda tra le gambe e deve rimproverarsi abbastanza un'altra squadra che si giocava molto erano gli Hardekens e Queens contro i Saints capolista era un po' l'ultima spiaggia e Marco Smith e compagni non tradiscono e restano nella lotta playoff non solo non tradiscono ma illuminano illuminano Twickenham dove si erano trasferiti per l'occasione davanti a 58.500 tifosi Marco Smith sbaglia qualcosina dalla spiazzola ma illumina con un crosskick assist Northmore e poi Porter ne segnano due a testa i Saints provano a rientrare con la meta di Carnelos ma alla fine Jared Evans chiude al piede 41 a 32 e i Queens sono ancora in lotta per le semifinali Gloucester la prossima avversaria di Treviso Gloucester trovava i Chiefs al Kingsholm dove tra qualche giorno appunto andrà il Benetton in una partita che ci ci regalerà un posto nella storia alla vincitrice Varney partiva titolare dall'altra parte invece Vincent dalla panca Gloucester con la testa forse già la sfida con la squadra dell'ex capitano Bortolami difesa abbastanza rivedibile che concede molto ai Chiefs che portano a casa punto di bonus con la doppietta di Vermeulen oltre alla solita meta di Feuaboso 17 a 38 e il problema in ottica semi-contreviso Santi Carreras out per operazione all'appendicite si perderà quindi la sfida con vari suoi compagni con nazionali argentini peccato peccato allora si chiudeva con Falcon Sharks e non arriva la prima vittoria stagionale per Newcastle Falcons che a 20 minuti dalla fine erano sorprendentemente pari a 14 ma cedono 35 a 14 con Radvan che probabilmente ha giocato l'ultima e saluta tutti e va con Team GB a preparare il preolimpico la classifica ci dice che a due giornate alla fine c'è ancora qualche dubbio da sciogliere in tutte le posizioni dal vantaggio casalingo all'accesso ai playoff i Saints ancora davanti a tutti Saris Bath Bristol le Queens per tre posizioni dietro i Chiefs che se vincessero con gli Arlequins la prossima potrebbero ancora giocarsi all-in all'ultima con i Tigers e infine mesdames e messieurs la giungla la giungla del top 14 come è stata definita da Urios l'allenatore di Clermont felice questa settimana allora iniziamo dalla sfida di alta classifica Racing Tolosa Tolosa con Dupont che sta gestendo il suo minutaggio tra 7 e 15 quindi dove tra l'altro nel 15 sta giocando a 9 sta giocando a 10 sta facendo di tutto un po' nella fattispecie parte dalla panchina per poi andare a fare il mediano di mischia lasciando Grau con la 9 titolare Tolosa che nonostante la prima meta parigina mette in moto il gioco alla mano Jus de Toulouse arriva alla meta di Kingorn Dupont si fa una mezzoretta così in surplus e prima distribuisce Peramos e poi va lui stesso a segnare col sostegno interno e sì il ministro dell'anterior ha firmato un altro decreto sempre Dupont fa segnare anche Santi Ciocavares e poi Castro Ferrera occhio a questo ragazzo Castro Ferrera segna la nona meta nelle ultime 10 partite tra under 20 e top 14 pas mal de tout no? soprattutto per una terza linea fosse un ala ancora ancora 32 a 12 il risultato finale è Tolosa con la testa gialla semi di Champions con gli Arlequins brutta sconfitta per il Bayonne di Mori e peccato per Bayonne perché i suoi tifosi non se lo meritano proprio di nuovo la penia Bayonne cantata da tutto lo stadio a spingere la Viron Bayonese però c'è Jaliver in grande giornata poi con anche un pizzico di fortuna per esempio in una meta che fa un rimpallo per poi arrivare nelle mani di Tevita Tatafu fan fact dopo la meta di Tevita Tatafu segna di nuovo Tevita Tatafu direte come? sì di nuovo lui no no nell'altra squadra sono due cugini entrambi si chiamano Tevita Tatafu beh potevano dargli almeno un altro nome uno è anche internazionale giapponese comunque Jaliver continua a creare Biel Bieri a finalizzare e finisce 15 a 34 per Bordeaux Lione a proposito di italiani torna in campo con Po con di nuovo Ioane titolare mentre Pajrelo parte dalla panchina con Cuiu a dirigere la squadra torna anche Ninia Shvili e si vede segna e fa un bellissimo assist subito per Monti per la meta del 21 a 0 finirà 38 a 20 Lusap 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 Perpignan Lusap di Tommy Allen che ancora fermo i box e Ciccarelli alla quinta vittoria di fila e ormai non si pensa quasi più alla salvezza mentre Lusap inizia a guardare veramente ingolusito ormai la top 6 i playoff e chi lo avrebbe mai detto per una squadra che si doveva salvare veramente complimenti a Lusap e parlando di salvezza parliamo di Oyonah Oyonah che ormai era data spacciata da tutti compreso da me la settimana scorsa e quando meno te l'aspetti arriva la prima vittoria stagionale tra l'altro in concomitanza con una sconfitta di Montpellier e quindi recuperano 4 punti non c'è purtroppo Odiase ma in una partita strana dove Lusap approfitta di un doppio cartellino rosso infine a fine gara riesce a portarsi a casa una partita contro Castre importantissima 22 a 19 convincente la vittoria di Clermont che rulla la capolista Stade Francais 41 a 18 tripletta di Raka e altra bella bellissima partita di Baptiste Genot sapete che io sono innamorato di questo mini di questo Dupont in miniatura segna e soprattutto dirige la squadra squadra che va adesso verso Londra per affrontare gli Sharks e infine il Sunday Night Sunday Night con la Rochelle Tolone e quindi con Garbisi parte di nuovo titolare vista l'assenza di Giamminet deve anche prendersi in carico i calci dalla piazzola lo fa bene ma questa volta la Rochelle di Rogue Ronan Ogara fa veramente sul serio dritto per dritto come se non ci fosse un domani alla La Rochelle Garbisi si segna dalla piazzola e fa anche un paio di calci passaggio meritevoli ma forse nella gestione tattica della partita non ancora i timing giusti tra l'altro di una Tolone che era profondamente diversa da quella della settimana precedente morale della favola 27 a 17 e la Rochelle che torna nelle top 6 e allora eccola qui la classifica del top 14 in fondo come dicevamo piccolo barlume di speranza per Oyonah che accorcia su Montpellier mentre sopra Tolosa avvicina Parigi e per le altre quattro posizioni la solita bagarre che si risolverà probabilmente solo all'ultima giornata con Lusap squadra più hot del top 14 e forse in questo momento oserei dire del mondo alle Lusap ragazzi ditemi se vi è piaciuto questo video come sempre ditemelo nei commenti per il resto fatemi ricordare The Rugby Catalog dove tutti voi appassionati di rugby potete acquistare con il 10% di sconto tutto quello che ritenete a vostro gusto per il materiale ovale che trovate lì codice sconto Dampat10 per il resto io vi mando il solito grande grandissimo bacio e ci vediamo mercoledì quindi oggi per voi che ascoltate il video alle 6 per il terzo tempo del martedì che slitta il mercoledì e parleremo anche dei playoff della serie Elite ciao